Ok, so che sembrerà da pazzi perché sto malissimo adesso per via del peso e della pressione sulla mia vescica Ma, accidenti quanto mi mancano le opiacei Dato che la vescica è allenata fin dalla tenera età a non fare pipì quando vuole Le serve il permesso del cervello e quando sei molto fatto il cervello è un po' pigro Troppo pigro per dire qualcosa Muoviti cervello Ti prego Forse è per questo molti tossici sono morti sul cesso La verità è che l'ultima volta che sono uscita di qui non ho avuto una bella esperienza Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti